E' morto all'età di 70 anni dopo una lunga malattia lo scrittore e saggista milanese Franco Bolelli a dare l'annuncio su Facebook la moglie Emanuela Mantegazza che ha scritto stanotte prima che se ne andasse per sempre dal mio braccio gli ho detto aspettami e lui ha fatto sì con la testa. Franco Bolelli scrittore e saggista collaboratore di varie testate era nato a Milano l'8 luglio del 1950. In passato è stato redattore di Gonga scritto per la prima storica edizione di Alphabeta fondato Musica 80 ha curato i cataloghi delle installazioni milanesi di Brian Eno è stato docente a contratto al Policlinico di Milano. Tantissime le sue pubblicazioni in particolare con gli occhi della tigre per una filosofia vitale, epica, erotica, sentimentale. Diverse le collaborazioni di spessore da Stefano Boeri a Giovanotti ha progettato e messo in scena decine di eventi e festival.